Ringrazio Elena Nembrini, direttore generale di Enit, l'ente nazionale per il turismo, grazie per essere con noi. Noi parliamo chiaramente di estate, Elena Biggiogero ci ha introdotto un po' il tema, perché nonostante l'inflazione resti stazionaria, si parla di qualche aumento di prezzi, mezzi di trasporto, treni, pulma, benzina, parcheggi, in aumento anche i costi dei pacchetti vacanza, questo secondo Codacons addirittura più 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Allora, direttrice Nembrini, intanto dicevamo che estate sarà al di là dei costi, perché aspettiamo tanti turisti sia a livello nazionale, quindi italiani che si spostano in casa propria, sia però anche internazionale. Esatto, noi abbiamo delle stime, soprattutto aeroportuali in questo momento, degli arrivi che sono previsti e attendiamo circa 1.600.000 turisti, soprattutto stranieri, il 87% straniero. Una buona parte di questi sono americani, che sono turisti altospendenti, quindi almeno loro l'impatto sui prezzi non inciderà. Una buona parte dei turisti viene soprattutto dall'Europa, quindi Francia, Regno Unito, Germania. E poi un aumento di presenze italiane, ci sono circa 300.000 italiani che useranno i voli interni per spostarsi, quindi tanto turismo anche italiano. Sarà anche un'estate ricca dal punto di vista degli eventi, sia sportivi sia non sportivi, no? Eventi ne sono previsti tanti, ne sono previsti almeno un 4.000, tra eventi sportivi, sagre, festival, spettacoli musicali, concerti, che catalizzeranno un tipo 28 milioni di presenze nel periodo giugno-settembre. La punta massima, peraltro, di turismo si avrà tra fine giugno e primi di luglio. Lì ci sarà veramente il picco. Sì, abbiamo visto che sono tanti anche gli italiani che si spostano in quel periodo. Sì, esatto. E sono soprattutto questi eventi nei piccoli borghi, le sagre, che sono diventati molto attrattivi. Anche perché è un'esperienza immersiva, ci si cala nella realtà della dolce vita italiana. Noi abbiamo tutta l'estate per raccontarli, quindi comunque torneremo su questo. Anche un altro tipo di turismo, il turismo nei piccoli borghi. Borghi, esatto. Anche in un altro periodo, perché appunto ci si spostano più tanto, chiaramente, le grandi vacanze ad agosto, ma anche a giugno. L'obiettivo è proprio quello di destagionalizzare un po' il turismo e di creare meno pressione sui grandi centri come Venezia e come Roma. Vedremo, vedremo come andrà quest'estate. Io la ringrazio. Grazie Elena Nembrini per essere stata con noi, direttrice di Enit.